Buongiorno e buon caffè. La sapete questa grande novità è venuta fuori in questi giorni. Sembra che per fare la maestra del nido ci voglia la laurea. Questo sarebbe il rimedio, la grande idea che il governo ha avuto per risolvere il problema dei terrificanti, orrendi, inqualificabili abusi che vengono fatti sui bimbi da parte delle maestre. Ma quello che colpisce è nuovamente il modello antropologico che sta alla base di tutto questo, che è a mio parere profondamente sbagliato. Perché alla fine che cosa affermiamo? Affermiamo che basta sapere per fare le cose correttamente. Cioè l'idea che c'è dietro è che se qualcuno fa delle cose sbagliate lo fa perché è ignorante, perché non sa. Quindi basta informare, basta insegnare, basta far capire e le persone poi agiscono. E questo è una comprensione della persona completamente sbagliata, perché noi sperimentiamo benissimo che pur sapendo le cose a volte ci comportiamo in maniera che noi stessi riteniamo scorretta. Non è il sapere che determina il comportamento, è ben altro. Ad esempio è la coscienza. Che cosa facciamo per formare la coscienza delle persone? Che cosa facciamo per formare gli atteggiamenti delle persone? La comprensione di cosa sia il bene e il male? E cosa voglia dire agire? In quale modo agiamo? Quali sono le forze che su di noi hanno presa quando facciamo le cose? Se continueremo a ritenere che basta sapere di più per poter essere migliori, abbiamo completamente sbagliato il modo di vivere. Abbiamo completamente sbagliato l'approccio antropologico. Buongiorno e buon caffè!